Ciao a tutti, oggi è giovedì 10 maggio 2018, mi trovo qui al Ponte Tiziano, vedete? Vedete? Quello che mi fa specie, la settimana scorsa ero passato di qua, avevo fatto un video di roba che c'era sotto, vedete? Vedete? Adesso si è aggiunto anche un divano, lo vedete lì? Questi sono gli 850 anni della città di Alessandria, di cui queste cose qua non interessa nessuno, perché dopo aver fatto il video, inviato, pubblicato, messo anche su YouTube, dove andrà anche questo, in modo che tutta Italia e spero anche tutto il mondo, conoscano la città di Alessandria, che probabilmente conoscono solo per il cappello borsalino, deve essere conosciuta anche per questi fatti qua, ovvero non c'è nessuno che fa il proprio lavoro, chi deve controllare il territorio cittadino non lo fa, assolutamente non lo fa, perché se lo facesse questa roba qui, invece di essere quello stronzo che sta facendo il video, dovrebbe essere qualcuno di loro che manda a togliere questa roba, vedete qui sopra? Queste grate, le suggerite io di metterle, perché dopo anni e anni di pernottamenti, dopo che era anche andato a fuoco un pezzo di questo ponte, continuavano e permettevano che la gente straniera andasse a dormire. Allora adesso, come vedete c'è un materasso lì, dove dormono in due, c'è un altro in fondo là, vedete? Dove dorme uno, qui ha messo il divano, probabilmente adesso arriverà un mobiletto con un televisore, che prenderanno la corrente da qualche parte e si metteranno a vedere la televisione. sul ponte, qui ci metteranno anche un'antenna parabolica, allora si terranno in contatto con il loro paese. E intanto in Alessandria non si fa un cazzo! Io speravo che con una nuova amministrazione le cose cambiassero, mentre invece mi sa che stanno peggiorando. In una settimana che la gente sa che c'è questa roba qui, a nessuno interessa, se ne sbattono i coglioni, interessano solo 850 anni della città di Alessandria. Buon compleanno Alessandria, è tutto meritato! Ciao a tutti!